Il nostro socio, 93 anni, che fa sempre le mezze maratone, godismo, quest'anno ha vinto il titolo italiano del 2005 e 5.000 master dell'UNS, campione europeo e mondiale dei 5.000 e 10.000 metri, quindi metto un applauso alle mezze. Come Consiglio Direttivo Nazionale abbiamo fatto questa carica a Angelo Squadrone e la faccio leggere il comandante fa. Allora, sono il presidente del Club Super Marathon, quelli che hanno più di 50 maratone. Possono iscriversi al nostro club. Angelo Squadrone è il nostro presidente onorario, che ce ne onoriamo. Questa è la giornata del veterano sportivo al super maratoneta, Angelo Squadrone. Ha più di 300 maratone, Angelo Squadrone, al suo colo. Per i brillanti e indeguagliabili risultati sportivi ottenuti nella sua carriera bodistica. Grazie, Angelo. Grazie a tutti. Non dico nulla. Auguri, riauguro di seguire le mie tracce, specialmente ai giovani. Auguri a tutti. Auguri, riauguro di seguire le mie tracce, specialmente ai giovani. Auguri, riauguro di seguire le mie tracce, specialmente ai giovani. Auguri, raggiungo di seguire le mie tracce, specialmente ai giovani. Auguri, riauguro di seguire le mie tracce. La mia tracce, buona lo scopo di seguire le mie tracce. Auguri, riauguro di seguire le mie tracce Allora, spettoli, allora, sulla scoppi del pubblico.